ciao ciao a tutti e bentrovati sul mio canale allora ho anche oggi un nuovo progetto vi voglio proporre il tutorial di questo bellissimo ciondolo a mio avviso è veramente molto molto bello soprattutto mi piace un sacco l'incastonatura che ho realizzato con i mezzi cristalli e le crescent dietro ho chiuso il rivoli giocando un po' con le rocaille, una specie di diciamo chiusura netted più o meno e il risultato mi piace da morire volevo proprio un ciondolo diverso che uscisse un po' dagli schemi del solito tondo ovale ed è nato lui spero che il tutorial vi piaccia e basta posso farvi vedere nel dettaglio che materiali andremo ad utilizzare per realizzare questo ciondolo, ci occorre un rivoli da 18 mm 12 crescent la colorazione che uso io è la metallic suede gold e sarebbero queste poi mi servono mezzi cristalli da 4 mm io uso questo colore fantastico che è il magic apple che ho preso in fiera da questo stand che vende anche online che si chiama idealbeats.com bellissime poi mi servono due colori diversi di super duo io in questo caso uso le opac yellow e le pastel lime poi mi serviranno due misure diverse di rocaille 15.0 e 11.0 di entrambi utilizzo la stessa colorazione della Miyuki che è la Duracot Galvanize Powder poi un gancino per collegare la lavorazione alla catena la catena io uso questa che ho preso dal sito le bimbi in bronzo eventualmente chiodini sempre in bronzo se volete fare anche voi come ho fatto io la catena con qualche cristallino perla alternata alla catena a ago utilizzo questa volta un numero 10 e come filo invece al solito filo di nylon da 0.16 il primo passaggio che dobbiamo fare è quello di mettere sull'ago 3 rocaille 11.0 alternate a 2 mezzi cristalli e 3 crescent e questa sequenza la dobbiamo ripetere per 3 volte una volta fatto questo chiudo a cerchio ripasso in tutte le perline faccio un doppio nodino e mi devo portare ad uscire da una delle crescent ok adesso sto uscendo appunto dal foro inferiore di una delle crescent non devo fare altro che inserirmi nei fori superiori delle 3 crescent così senza mettere niente sull'ago e tiro bene il filo ok adesso metto sull'ago 7 rocaille 11.0 4 5 6 e 7 eccole qua e mi devo inserire nella 11.0 che sta tra i due mezzi cristalli magari senza farle cascare ok questa e tiro bene il filo ancora sempre 7 rocaille 11.0 sul lago e mi inserisco nelle 3 crescent nei 3 fori superiori delle crescent questi e tiro sempre bene in questo modo si vengono a formare tutti gli archetti di 7 rocaille adesso faccio la stessa identica cosa che ho appena fatto a completare tutto il giro ok adesso mi sono portata ad uscire dalla quarta delle 7 rocaille nell'archetto sopra ai mezzi cristalli questo metto sull'ago 4 rocaille 11.0 e mi devo inserire nella quarta rocaille dell'archetto dopo cioè questa e tiro il filo ok adesso ho le crescent e dove ho le crescent devo inserire invece 6 rocaille 11.0 e devo sempre puntare però nella quarta rocaille dell'archetto dopo cioè questa e tiro il filo quindi dove ho i mezzi cristalli ne inserirò 4 dove invece ho le crescent ne inserisco 6 faccio la stessa cosa e completo il giro ok adesso posso prendere il mio rivoli e lo inserisco all'interno della lavorazione e tiro bene bene il filo a questo punto potrei benissimo ripassare tante volte all'interno delle ultime perline inserite e rivoli sarebbe già ben ingabbiato ma io voglio dare un'ulteriore assicurazione un'ulteriore rinforzo alla lavorazione quindi mi sono portata ad uscire con il filo dalla quarta delle 6 rocaille 11.0 sotto alle crescent questa vedete e adesso metto sull'ago 6 rocaille 11.0 3 4 5 6 e mi devo inserire nelle 2 rocaille centrali del gruppetto di 6 sotto alle crescent dopo mi inserisco proprio nelle 2 centrali queste 2 così e tiro bene il filo ancora prendo sempre 6 rocaille sul lago sempre rocaille 11.0 ovviamente 6 e mi devo inserire sempre nelle 2 rocaille centrali del gruppetto di 6 che sta sotto le crescent dopo cioè queste 2 e tiro il filo ancora una volta prendo sempre 6 11.0 sul lago e 6 e mi devo inserire sempre nelle 2 rocaille centrali del gruppetto di 6 dopo queste e tiro bene il filo come vedete si forma una specie di triangolo al centro del rivoli adesso ripasso tante volte all'interno di questo praticamente triangolo che si è formato in modo da rendere tutto il lavoro bello stabile e compatto e rivoli fisso ok rivoli ingabbiato ed ora mi sono portata ad uscire dalla rocaille 11.0 che sta tra i due mezzi cristalli questa adesso metto sull'ago 3 super duo del primo colore nel mio caso quelle gialle opache e mi devo inserire nelle 3 crescent però nel foro più basso quello che sta più in giù questo e tiro il filo ancora prendo altre 3 super duo sull'ago e mi inserisco nella 11.0 tra i due mezzi cristalli questa qua e tiro sempre bene il filo ok devo fare la stessa cosa e completo tutto il giro una volta terminato il giro mi sono portata ad uscire dal foro superiore di questa super duo adesso metto sull'ago una super duo del secondo colore quindi per me le paste in lime e mi inserisco nel foro alto della super duo dopo e tiro il filo ancora prendo un'altra super duo pastel sul lago e punto sempre nella super duo dopo e tiro il filo adesso in questo spazietto tra le 3 super duo e le altre 3 super duo prenderò una crescent sull'ago e mi inserisco la super duo dopo e tiro il filo ok ancora riprendo sempre una super duo lime e punto nel foro superiore della super duo successiva prendo un'altra super duo lime e punto nella super duo dopo e tiro sempre bene il filo mi raccomando in questo passaggio tirate il filo bene adesso nello spazio più grande sopra alle crescent dovrò inserire una rocaille 11 0 una rocaille no scusate una 15 una 11 un mezzo cristallo e di nuovo una 11 e una 15 ecco qua quindi 15 11 mezzo cristallo 11 e 15 e mi devo inserire nel foro superiore della super duo dopo e tiro il filo ok adesso devo rifare la stessa identica cosa che ho fatto qua quindi prima inserisco le super duo poi nel forellino nello spazio più largo qui la crescent ancora due super duo e poi in questo spazio più grande metterò una 15 una 11 e un mezzo cristallo 11 e 15 e faccio la stessa cosa quindi per altre due volte a giro terminato ora mi sono portata ad uscire dal foro superiore di una delle crescent appena inserite questa adesso metto sull'ago una rocaille 11 e 0 e mi devo inserire nel foro superiore della super duo subito dopo e tiro il filo prendo sull'ago un mezzo cristallo e mi inserisco nella super duo dopo sempre foro alto metto sull'ago due rocaille 11 e 0 e mi devo inserire nella 11 e 0 che precede il mezzo cristallo nel mezzo cristallo e nella 11 dopo e tiro il filo di nuovo prendo altre due rocaille 11 e 0 sul lago e punto nella super duo dopo sempre a foro alto e adesso come prima prendo sull'ago un mezzo cristallo e mi inserisco nel foro superiore della super duo dopo metto sull'ago una rocaille 11 e 0 e mi inserisco nel foro alto della crescent successiva bene faccio la stessa cosa realizzando gli stessi passaggi per completare tutto il giro adesso a giro terminato mi sono portato ad uscire dalla seconda rocaille 11 e 0 dopo la super duo questa metto sull'ago una rocaille 15 e 0 e mi inserisco nel mezzo cristallo e tiro il filo prendo un'altra rocaille 15 e 0 salto la 11 dopo e mi inserisco invece nelle due nelle altre due rocaille 11 e 0 e tiro il filo senza mettere niente sull'ago ripasso anche dal super duo e dal mezzo cristallo quindi mi porta ad uscire dal mezzo cristallo adesso metto sull'ago due super duo io uso quelle pastel ho deciso di usare quelle pastel e una rocaille 15 e 0 e mi inserisco nella crescent nel foro più in alto questo e tiro il filo prendo una 15 e due super duo e mi devo inserire nel mezzo cristallo e tiro il filo adesso senza mettere niente sull'ago ripasso anche dalla super duo e dalle prime due rocaille 11 e 0 dopo e tiro il filo e come prima adesso metto sull'ago una rocaille 15 e 0 e entro nel mezzo cristallo e tiro il filo prendo un'altra 15 e 0 sul lago salto la 11 dopo e mi inserisco nelle due 11 e 0 successive nella super duo e nel mezzo cristallo quindi esco come prima dal mezzo cristallo così come prima rimetto sull'ago due super duo e una 15 eccole qua e mi inserisco nel foro più esterno della crescent e tiro il filo prendo una 15 e sempre altre due super duo eccole qua e mi inserisco nel mezzo cristallo nella super duo ed esco dalle prime due rocaille 11 e 0 dopo e tiro il filo bene faccio la stessa cosa per completare tutto il giro terminato il giro sto uscendo dal mezzo cristallo prima delle super duo questo metto sull'ago due rocaille 15 e 0 e mi inserisco nel foro superiore della super duo dopo e tiro il filo metto sull'ago una 11 e punto nella super duo dopo e tiro sempre bene il filo adesso metto sull'ago una super duo una 15 e un'altra super duo io uso quelle paste sempre e punto nella super duo dopo e tiro il filo prendo una rocaille 11 e 0 e mi inserisco nella super duo dopo non vi preoccupate se le perline stanno un po' sorte poi si sistema nel passaggio successivo ora metto sull'ago due rocaille 15 e 0 e mi inserisco nel mezzo cristallo che sto subito dopo e tiro il filo ok adesso devo fare ripassare devo ripassare in tutte le perline fino a portarmi ad uscire di nuovo dal mezzo cristallo qua sotto devo fare gli stessi passaggi che ho fatto per questa punta anche per le altre due punte ho finito il giro ed ora mi sono portata ad uscire dalla rocaille 11 e 0 tra le due super duo quella che ho appena inserito adesso metto sull'ago due rocaille sempre 11 e 0 sul lago e punto nel foro superiore della super duo e tiro il filo prendo una rocaille 11 e 0 e punto nella super duo dopo prendo altre due rocaille 11 e 0 e mi inserisco nella 11 e 0 che sta dopo e tiro il filo ok adesso faccio la stessa identica cosa che ho appena fatto inserendo le rocaille anche per le altre due punte bene ho completato il giro ed ora sono passata attraverso le perline e mi sono portata ad uscire dalla rocaille 11 e 0 che precede la crescent questa nel foro alto metto sul lago 6 rocaille 15 e 0 4 5 e 6 eccole qua e mi devo inserire praticamente nella rocaille 11 e 0 che precede la super duo nella punta e tiro il filo senza mettere niente sul lago ripasso anche dalla 11 dalla super duo e dall'altra 11 dopo e tiro sempre bene il filo e ancora metto altre 6 rocaille 11 e 0 sul lago 5 e 6 e mi devo inserire nella rocaille 11 e 0 che precede la crescent nel foro alto nel foro alto della crescent cioè questa questa qua sotto e tiro il filo praticamente in questo passaggio faccio questa specie di decorazione sulla punta adesso ripasso all'interno delle perline mi porto ad uscire sempre dalla rocaille 11 e 0 che precede la crescent qua sotto e faccio la stessa identica cosa che ho fatto per fare questa punta anche per le altre due punte ok ho completato il giro il nostro pendente è quasi finito manca solo il cappietto dove collegarlo al gancino io lo monto in questo modo vi faccio vedere come faccio io ma potete tranquillamente montarlo anche così e magari fare un cappietto qua sopra insomma come preferite io mi sono portata ad uscire dalla rocaille 15 e 0 quella che precede il mezzo cristallo ed ora metto sull'ago una rocaille 15 e 0 e due rocaille 11 e 0 le porto accanto al lavoro prendo il mio gancino e mi inserisco e lo inserisco all'interno dell'ago e anche questo lo porto accanto al lavoro prendo altre due rocaille 11 e 0 e una rocaille 15 e mi inserisco nella 11 successiva e tiro il filo in questo in questo modo si viene a formare il gancetto il cappietto e dove ho collegato insomma il gancino e niente adesso ripasserò qualche volta all'interno del cappietto in modo da dargli più sicurezza scendo all'interno della lavorazione faccio un doppio nodino e taglio il filo nel cesso perché il nostro pendente è terminato ho chiuso il lavoro e poi ho montato in questo modo il ciondolo con una catena color bronzo utilizzando gli stessi cristallini mezzi cristalli che ho usato all'interno della lavorazione poi ho usato queste perle un po' più grandi sul giallo per richiamare il colore delle super duo e spero che questo progetto vi sia piaciuto spero di essere stata chiara nei vari passaggi e speriamo di vederne anche qualche versione riprodotta se magari lo fate fatemi fatemi vedere le vostre versioni non so tagatemi dove volete che mi fa sempre piacere io vi saluto vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video ciao